I cannibali? Sì, esatto, proprio i cannibali. Sono lì e sono i più forti, perché questa giungla è il loro elemento. E noi rappresentiamo per loro la speranza di un ottimo pasto. Bene. Ma è spaventoso. E noi rappresentiamo per loro la speranza di un ottimo pasto. E noi rappresentiamo per loro la speranza di un ottimo pasto. E noi rappresentiamo per loro la speranza di un ottimo pasto. a 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 Grazie a tutti.